Il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti ha l'obbligo di provvedere entro il prossimo 30 ottobre all'approvazione del nuovo piano economico-finanziario, la cui ultima versione risale al 2014. È quanto stabilisce la quinta sezione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso della concessionaria delle autostrade laziali abruzzesi a 24 e 25, strada dei Parchi, contro il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti. Nella sentenza pubblicata ieri i giudici amministrativi hanno respinto l'istanza del risarcimento danni. Una trattativa, quella per il rinnovo del piano economico e finanziario, che prevede un megaprogetto di messa in sicurezza strutturale antisismica dei pedaggi calmerati. Sono nuove le diverse soluzioni presentate dalla concessionaria, nessuna delle quali accolte dal Ministero, motivo che ha spinto a strada dei Parchi a rivolgersi al Tarre e poi al Consiglio di Stato. Il pronunciamento arriva fra l'alto proprio nei giorni in cui la trattativa per il nuovo PEF ha in corso diversi tavoli ai quali stanno partecipando la società concessionaria e il MIT con il Ministro Danilo Toninelli che segue in prima persona. L'accordo verte sul grande piano di messa in sicurezza delle autostrade per un valore di 3 miliardi di euro, di cui due assicurati dallo Stato e la restante parte dalla concessionaria. Accordo previsto nella legge di stabilità del 2012, dopo il terremoto dell'Aquila, quando le arterie autostradali vennero considerate strategiche ai fini di protezione civile. L'intesa per il nuovo piano economico-finanziario potrebbe arrivare nella riunione del Cipe del prossimo 24 luglio. Ad essa è legata anche la sterilizzazione delle tariffe che scade il 31 agosto e in mancanza della quale scatterebbe il maxi aumento di circa il 20%.